Cos'è una pezza che vuole fare cellulare? Se ragazzi... Buonasera ragazze e ragazze stasera sono in diretto con voi io lo sapete che vi voglio bene e vi ami ditemi quello che voi volete sapere e io vi risponderò a tutte le domande Margot Antonella Lucie ha fatto la faccia innamorata Che comagliello Ciao Checco Eddi Margot è bellissimo Ciao Eddi Grazie Noi Non ci sono domande Non ci sono domande Non ci sono domande Claudio Ehm Claudio Come si fa ci metà Claudio Claudio Non ci sono domande Se è qualcuno che vuole fare la diretta non ci sono domande Oppure lasciate domande Guaio Dai mi fai un saluto a Gay E' il mio gruppo Un bacione Come si chiama? Gaia Un saluto a Gaia E' un bacione Gaia E domande Tutte domande Che cosa? Che cosa? Ma che è l'altro? Hai visto? Hai visto? E' il mio bucino Vado con la maledetta Perché il lato è giunto Perché quando ti manessere Abassare A grano Come si è abituato a fare Come si è abituato A fare Ciao Luca Maga sei bellissimo mi saluti Ciao Luca Un posto Matteo 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 Ehm Ca' Fammi Napoli 555 E' possibile fare una maledetta Con Lucia Lo Ferentino Si come andò Si Salute a Lucia Lo Ferentino Napoli Un saluto a Lucia Ehm Ehm Che la vengi il pubbolo? Alle 20 e 30 di Dallauna Sì Ehm Cristiano Come hai capito che se ne tolgo? Quando Possiamo dare un babba Ehm 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 Sempre Cristiano Ehm I tuoi parenti come li hanno presi? Bene Ehm 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 O Brasiliano Ehm Margò Ehm 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 Marco Ma non mi fai male, che dolore Marga sei bellissima, saluti al cammino Cicciano saluti al cammino Cicciano da Cicciano da chi? Cicciano Cicciano ma quale lavora si chiama dottore? Viva, Margo Passate se siamo dottore perchè schiattano i vostri domodori Lorenzo, Margo, saluti il mio amico Sandro e il tuo grande Francia Lorenzo, saluti per il tuo amico come si chiama? Sandro Sandro, ti mando salutare chiamate all'Aura Divina vogliamo fare un combattimento si chiamate all'Aura Divina si chiamate all'Aura Divina domani ve lo vedo con l'Aura Divina c'è domanda no no, rimane c'è domanda non ci sono mi sento si chiamate all'Aura Divina si chiamate all'Aura Divina Gaetano ci sono un combattimento come si chiamate all'Aura Divina come si chiamate all'Aura Divina ma ci sei domanda non dici te mi faccio le domande e voglio una risposta Marco saluti il mio amico Giovanni scassi chi è? ma che ne fai le domande? mi saluti? eh con essa si vuole il managgio di saluti ma fa niente qui dai monto mi saluti mattina ma dai monto mi saluti mattina con passione Teresa ma lo sai che Laura oggi è fatta la stessa per la babba tu che lo dici? ma lo sai che Laura oggi ti è fatta il laser per la babba si lo so faccio il tuo funerato ma che non si può fare quello che vuoi ti è fatta la squadra e ti è fatta la giù Marco sei bellissima puoi fare una dedica ad Alex ti segui sempre un saluto Alex un bacione forte ma se ti arriva a essere la caccia un bacione eh eh Nunzia bacio amore chi Nunzia? Nunzia Mario Castellano ah bacione Nunzia ah ah lui ci d'amore ma no prima ti ho visto vicino alla rotonda tu che hai visto siamo metà rotonda perché là mi è una scassa tutta è pronta a diretti le domande Bamboli sa più bella eh io l'incio Bambolino o principino l'hai io sono Marco non sono Bambolino comunque grazie amore anche tu sei bellissimo Maga mi saluti Giovanni un bacione a Giovanni un bacione un bacione un bacione allora mi volevo agli uccine con gli stocchi per questo per questo Maga per cicciolina stasera stai favola grazie pure la centina amore Maga mi saluti Luigi d'amore un saluto a Luigi d'amore ma vuoi essere lo stesso Maga mi saluti la rosa saluta a Luciano Napoli un bacione a Luciano di Napoli puoi salutare Benito un saluto a Benito hai uno stile troppo bello grazie la vera sta bene sta sì ma si fermano margo ma si fermano margo sognami margo cosa ne pensi di questa situazione covid tesoro la verità chi dice ci sta su covid chi dice ci sta io che tutti robbi movimenti perciò hanno per tu di lente ma un saluto a tutti i nostri amici di Trasciamma un saluto in bacione a tutti i ragazzi di Trasciamma chiammatelo sta bene la stasera mi saluti Tony Riccio da Lorenzo da da Loredana grazie da Loredana un saluto come si chiama Tony Tony da Lorenzo da Loredana ma tu se vorrei se potrei se potrei abbassare presto aspetta si down se potrei fare ma mi domanda tu mi saluto a mio amico Giovanni Ozzi per favore un saluto a Giovanni Ozzi un bacione un saluto alla famiglia negri un tanti bacione alla famiglia negri negri margo saluti mia nipote che capoccia bassone a checca e che capoccia checa capoccia mi saluti bella sei troppo bella stasera grazie cuore bassone magari c'è Obama Obama c'è c'è che ho putato a bab non sa chi è Obama chi è Obama se l'ho usato ma sa bene pure lei per farti perdonare dici Tony Riccio mi schiattà a Londra Tony Riccio mi ha schiattato mi ha schiattato che c'è la mia l'ho usato la mia l'ho usato Grazie a tutti. 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 Salvatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bianco. Bianco. Yeah. Grazie a tutti. Yeah. 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 Quando fai questa faccità trasversiva proprio, questa mardaiola proprio, scassano. Stassano. Ah, ma lui sta sentando già su noi, tutte le cose che ci arrivarono prima che siamo fatti di più, ma non sta a seguire. Ma tu vieni a vicino dove faccio la vicina. Che te li sanno? Ma io sono proprio qui a me a lontano. E tu ci dobbiamo sanno? Che te li sanno? Vieni a cagliare, sai, no? Fai la vostra ufficio. Ma che hai mangiato? La verità, hai mangiato un hot dog. Ma che? Hai sciappato una compagnia la tua, Rita. Rita? Hai mangiato un bacio frotto, eh? Un bacio anche a lei, Rita. Ma tu non capisci? Mi capisci, Rita? Rita? Stai andando, Rita. Ora, tu non mi capisci. Ma tu non mi capisci, Rita? Ma io, tu non mi capisci, Rita. Mi capisci, Rita. E che Rita? E che gatto è tu, Rita? Sì, non so! Maru, non so, non dico di secondo. A questo io, vengo a mezzo a scala, a stai e a vigo a pari, a stai, non lo so. Ti scassi a sanzano. Ah! Uhhhh! Come mai, ma? E ti faccio alluccare? Ti faccio a fare io o più? Ma ti faccio a parlare ora anche? ma chi sono queste donne che ridono? mia sorella che viene da Giappone la vuoi sentire? la vuoi sentire? ti dice? la vuoi sentire? beh ma chi è quella ragazza? no è donna amore come l'ha fatta la mamma hai scusi, chino frate bra bo 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 come ce ti mi ha detto? c'è ci aci il rò bastard c'è ci a scopinato allora, che sta bene di pinare se va hai car o lè me ma chi se te ne ha botto? non ti credo che ho? chi se te ne ha botto? non ti credo che ho? non ti credo che lo faccio non ti crede che lo faccio non ti credo che ho fatto e non ti credo che ho fatto tu te ne sa? ma che vuoi slut? ma che vuoi? ma che cosa ti dice la verità però? ti ritengo una questione sincera? sei troppo buono e dice la verità però Eh Dio Sì? Sto parlando con il mio papà di ricordato? Ti ricordo di andare a prenderlo in città la macchina? Eh come? Abbia a Firenze. Eh, questo è il voto negativo. Tu guarda! Tu guarda! Però ma che sono geloso? Tu stai con me? Ma io sono solo per te. E' scassa maldata di tre. E ti scassa due tre e cinque. Oh, allora si rimane. Stanno altre dirette. Ciao cuore. Ciao amore. Ciao cuore. Poi si ci marò. Ciao Vittor. Ah, leggiamo anche domande. Un grandissimo saluto a Careca da Sarno. Tanti saluti a Careca da Sarno. Un bacione. Un bacione. Non dimenticarti gli orecchini. Rimane. Sai che è rosato quando ci fai fischi a Laura e quella va in breve. come sei bella, detto Peppe. Un bacione, Peppe. Un bacione, Peppe. Meglio, Peppe. Un bacione. Un bacione. Un bacione. Un bacione. Magari, i tuoi capelli sono veri come Laura che si dire il vento. di un bacione a scambia di unertogiorno alle cute di mamme. Un bacione. Questa èлюcia per 당one. Un bacione. Luigi Diana, mi saluti? Ciao Luigi Diana, mi va solo. Bamboli, scusami, però come ti chiami, chiami, si sembra più bello. Grazie. Saluti mio amico Antonio Graniglia, grazie. Antonio, un saluto per il tuo amico Graniglia. Un bacione. Ma che stasera vuoi fare ciccioli? Se troppo facciamo a bere. No, io faccio cose. A presto fare ciccioli da Natale, da ciccolina. Mi saluti, Umberto Polpicelli. Un bacione, Umberto Polpicelli. Ah, c'è il tuo amico, il culo, no? Saladrini, scusate, saladrini, scusate, saladrini, scusate. Sì. Eh, sta a posto. Ma come sei bello stasera? Mi sapete ancora. È troppo bello. Ma sono fotte. Mi voglio sempre bello. Mi metto come dice, ma cosa è? Ma che dici mi sembrava? Ma sei bello? Lascia a scavare. Non è che Pino Mauro. Brava, Pino Mauro. Vira Pino Mauro. Eh, voglio qui. Sei bello. Ehi, fammi decida, ma... Tu dici, ma che stasera? Ma che sei nate? Ma sì, bello. Ehi, bello. Quanto peschi. Ma che sei? Ma che sei? Ma sono l'attività di tutte le persone che io amo e voglio vedere. Ci divertiamo un poco. Bravo, è buono. Ma ragazzi, non vieni più, non vieni a trovare più. Ah, buono, è proprio un po' di bello. Un bacio nel posto, pure. Ciao, vabbè. Domane, faccio la salta da diretto, ok? Ok, rimane un bec'naglio. Ciao, pure. Un bacio nel posto. Ciao, vabbè. Ciao, vabbè. Ciao, ciao. Valera è un bacio. Facciamo a Valera, ma capire che ti vuoi riscere, Valera. Vabbè. Maga. Voi il cuore? Mamma, come stai bello stasera. Bellissimo. Mamma mia. Stai sempre ritocco da me. Voi il cuore? Stai sempre ritocco da me. Sì, pure la notte, la notte te sono, non trovo passi. Madonna mia. Come stai facendo? Sgranma. Ma, ho visto? Come ho fatto la lavatrice? Ho fatto la lavatrice? Tu. Ciao, madame. Ciao, cuore, un bacio. Ti voglio bene. Ciao. Ciao. Diego, magari mi saluti. Ciao, Diego, un bacione, cuore. Maga, un bacio fatto a Marco Mantegna. Marco, un bacione. Sgranma. Sgranma. Sgasma. Diego, c'è tanto. Diego. Di Mazzetti. Non so. Oggi sta Diego. Ma sta tutti. Oggi? Oggi? J'aiuto. Oggi. Lo so. Oggi. 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 amore mio domani sera focchi focchi amomi maga ciao amore amore mio come sei bello ciao si sembate bello si oh ah da qui ti vai salutare vieni qua ui maga ah agora ah to dicendo ui maça tua madre ui 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 utilizzare ui 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 si Aspire Allora che mi dici? E' stato si mangiare l'alice e non mangiare la santa Aspire Allora La valigina Come la valigina C'è il fracomore La valigina Allora Bacolo a tutti Ah Vi stava liscio per te stasera È tutto ciao ragazzi che ragazza grazie a voi che bellissimo cuore amore mio troppo bello ma fa ma fa che ho fatto uno scasso ma ma uno scasso e come uno scasso uno scasso una salita una pagina uno bacione tu voglio bene e un bacio e un bacio anche un set e allora Vitami Cor Ehi a te che si dice? che si dice a te? sempre le solite cose pure ma come sei bella pure tu sei bellissima pure grazie amore ti sei sempre bella grazie un bacione volta attento alla famiglia grazie amore ti voglio bene ciao grazie a te grazie a te tu sei a posto tu sei a posto tu sei a posto tu sei a posto non passi con si finisce ti ricordi con la palavadrice? ma non come fui bella amore tu metteva le glorie metteva la pezzina ogni ogni botte ogni botte ogni botte ogni botte un bacione un bacione c'è una bacione ma fa amore come la fai scegliere? la fai scegliere che? si ammetti maga, ti saluto maga mi saluti? il bacione è fatto pure margo oh orlissima oh ma come ti chiamano a bacia ferrovi? ma facciamo un po' non ti chiamano a bacia ferrovi la pieghetta ma qua non ti chiamano a bacia ferrovi ma tu piscine ti chiamano comunque laura divina è più forte se io ti chiamano non ti chiamano non ti chiamano non ti chiamano laura divina è più forte laura divina ti chiamano si si a me è brutto quando sta sempre inizialmente la comitiva. Maronna, non ce la faccio a questa sezzetta? Scassi fa una tretta e ha rimasto. Come ha già fatto? Ti amo pure. Ciao! Chi è? Ciao! Un saluto e un bacio. Ciao, cuore! Un gioco. E vabbè. Amorvi. Stai a posto. Ti amo, sto bene. Un gioco sempre è bello, cuore. A tutti e due. Grazie. Grazie. Assume. Una prego. Ciao. C'è che... Ah, lasse me. Lasse me. Lasse me. Sgrano. Sgrano. Magro, fulatoso. Buona notte. Buona notte. Sara. Un bacione per la ragazza... Com'è? Mi dico. Un bacione per la ragazza. Ma c'è da me? Che be. Voi città, non è vero Voi, voi 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 città, voi fare malo Voi città Voi città Voi città Voi 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 Ciao a cuore! Ciao a cuore! Non ti incazzare. Ciao bello! Dimmi! Quando ci vuoi? Quando vuoi? Quando vuoi tu cuore! Ciao! Un bacione amore perché ci sono le parecchie diretti. Sera! Buonasera! Un'altra volta! Tu vuoi levare il sartello? Ah? Non ci sono le parecchie diretti. 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 Saluto Francesco! Un bacione per Francesco! Potete salutare anche la mia amante Martina. Anche un bacione per Martina. Vabbè, stavate in un'accella, ma non ci sono le parecchie diretti. CPC. Fammi salutare! Sono la sua amica di casa nuovo. È Mary! ciao a me un bacione al cuore ciao maga ciao ma è vero che sei una panterona una sigrona che hai detto non lo so non capisco diamo cuore altri 10 minuti poi domani facciamo più presto la direte più presto perché domani io devo scarare una persona vai via no l'ansima ciao non ti vediamo ciao non ti vediamo io a che ti vedo io a che ti vedo io come non ti vedo non ti vedo che sguardo ono vede vittori be c'è be c'è be sà c'è nadire tono ah come stai maga bene chi sei francesco ciao francesco un bacione sei bellissima maga grazie cuore come maga ti amo anch'io tesoro saluti salvatore maggio maga un saluto a salvatore maggio ci vediamo a giugno aspe hai lo che hai a Laura lamiamo tutti ciao cuore ciao cuore ciao cuore ciao cuore ciao cuore che fai stasera giochiamo un poco a che cosa a mi scasso o a mi stracci a mi scasso o a mi stracci a mi scasso o a mi stracci a mi stracci ciao cuore buonanotte maronna la faccio solo con bambolina ma io la faccio solo con bambolina aspiri, aspiro ad rai ok 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 Grazie. Non è tutto lungo, non è tutto lungo. Ciao tesoro, bello, un bacione. A parte Laura, io sono bello, baci stellari. Ciao amore. È bellissima. Sì, è brutto. 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 Fate entrare a Laura. No, ci fate entrare a Laura perché domani se ne se ne vanno con Laura. Stasera voglio parlare diretto con tutte le persone, tutte le persone che io voglio bene. Loro mi amano e io amo. Comunque altri dieci minuti. Chi è primo? Quello? Ci do la risposta. È un bel ticchettotto. Laura la divino semisacridere. Non rinno, non so se c'è tutto il tempo. Un po' è brutto. Un po' è brutto. Fami entrare, chitico. Io ho qualcosa a Laura. Aspetta. Vai tu, coca. Ha fatto Alessandro. Maga. Aspetta. Laura ci ha brutto cazzo. Perché nessuno può competere per male. Ha fatto Laura? Ma ora io sono una tua fan. Diciamo. A me? E qui mi fanno il cuore? Questi sono i fan di Margò. No, come tu. Che non sei nessuno. Ti amo, cuore. Ti amo, Margot. Pure tu, tesoro. Ma dove stai la frecola? Sì. Ah. Bella, eh. Ti ricordi quando mi scassassi le tue muretti? Margot, fate attenzione. Ti ricordi, amore. Mamma mia. Come succede. Ma come succede. Mamma mia. Ti ricordo. Popo, popo, popo. La pesi sta diventa. Oggi vediamo domani. Buone. Ha fatto Laura. Ha fatto da ricordo per Rovì. Ha ha. Come? Che ti scassano per i pari? Se mi fanno con i miei. Sì. Ha fatto Giacomo. Va il cocco. Laura, in diretta. vadola del dalle nel dalleuale, e poi. Allora. 10 e mezza alle 11 ok per aspettare tutti domani alla diretta ma rimane proprio a bomba un bacione a tutti vi amo e vi voglio bene vi saluto con un vischio Sgranama